a tutti eccomi qui con un nuovo video in questo video voglio farvi vedere che cosa ho ricevuto da aliexpress sono tutti i pacchetti che comunque ho ordinato io e che mi servivano e che io solitamente mi compro sempre in più perché visti i tempi di aliexpress questo è l'unico modo per avere sempre qualcosa a portata di mano però voglio dire che ci sono due pacchetti che sono stati abbastanza veloci che avrò ordinato tipo un paio di settimane fa e che ho ricevuto in breve tempo ora vi lascio al video e spero che questo video vi piace questo è già il secondo video che faccio però questi sono tutti i pacchettini di aliexpress non sono pacchettini di wish e vi faccio vedere lo spacchettamento grazie vi lascio al video ciao a tutti eccomi qui con un nuovo video in questo video voglio farvi vedere tutti i pacchettini che ho ricevuto da aliexpress questo è il secondo video e le andiamo a spacchettare insieme questo è il video dove andiamo a spacchettare i pacchetti che ho ordinato da aliexpress cominciamo dal primo andiamo a vedere andiamo a vedere che cosa esce occhielli vedete questi sono degli occhielli che ordino che uso per le mie creazioni secondo occhietto questo dovrebbe essere un nastro via adesivo fatto a scotch se fatto piccolino ecco vedete è un nastro via adesivo e gli anellini vedete per chiudere i ganci circolari sottili questo vedete è un portamine sottile da 0,5 questo andiamo a vedere che cos'è facciamo attenzione perché non mi ricordo che cos'è devo fare attenzione a come lo apro sacchettini di organza celesti questi li ho ordinati proprio da poco tipo saranno una ventina di giorni sono arrivati pure abbastanza presto questo ho comprato questo gancio per chiudere le cuffie vedete si mettono arrotolate le cuffie in modo che non si perdono e si chiude in questo modo con il gancetto che c'è qua ultimo pacchetto vediamo qual è questo ah questi strip vedete questi strip adesivi non mi ricordo nemmeno per quale motivo li avevo ordinati questi li avevo ordinati un po' di tempo fa ma non mi ricordo perché mi servivano comunque queste sono tutte i piccoli pacchetti che ho ricevuto spero che questi video vi piacciono per far vedere tutto quello che ho comprato allora queste sono tutte cose che ho trovato in offerta tutte cose che io ho queste per la micromina quindi per la mina quella lì con la punta sottile e vedete questi sono tutto questo è tutto quello che io ho acquistato che ho provato e alcune cose le ho ricevute abbastanza presto anche questi quelle che ho ordinato e mi sono arrivati molto presto sono stati questi questi li avevo ordinati insieme da ventina di giorni e già li ho ricevuti con questo il video è finito spero che questo video così vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video grazie e ciao a tutti ciao 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 ciao